Buongiorno, Presidente degli Amici di Piero Chiara, Dottor Romano Aldrini. Allora, oggi i protagonisti bambini a Chiara. I bambini e anche piccinelli, tu stesso sei sempre un grande protagonista. Sei bravissimo, sei fresco, sei petillant, come dicono i francesi. Oggi abbiamo una sala veramente meravigliosa, centinaia di bambini che sono con noi. Stiamo seminando per il futuro, speriamo. Sperando che magari poi negli anni prossimi... Che i semi fruttifichino piccinelli. Che negli anni prossimi magari tra questi bambini avremo qualche scrittore, qualcuno che parteciperà anche a Chiara. Avremo un piccinelli, avremo un piccinelli. Solo io il protagonista, grazie Presidente.